ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu riprendiamo tekken con il nostro arcade mod negli scorsi video abbiamo provato il gioco con nina e dopo aver affrontato anna come sub boss prima dello scontro con eiachi adesso l'abbiamo sbloccata e la possiamo usare come combattente come al solito ragazzi mi raccomando lasciate un like un commento e condividete il video per supportare il canale allora adesso iniziamo affrontando kazuya anche anna è una combattente letale infatti addestrata nelle arti marziali omicide in stile coppo e un'altra caratteristica che la rende particolare che all'inizio del combattimento flerta un po' e stuzzica l'avversario e alla fine quando lo batte lo ridicolizza infatti termina il combattimento con una risata sguaiata e delle mosse provocanti anna ha una serie di mosse piuttosto simili a quelle di nina alcune varianti tipo questi schiaffoni e va bene vai a terra anche tu king anche l'atteggiamento è piuttosto particolare di anna che sembra provocare l'avversario fa un po' la femme fatale non ti azzardare più yoshimitsu ahia come ti permetti fatti scaraventare un po' via va e vai via va beccati sto calcio rotante a girare tra l'altro soprattutto all'inizio sono entrambe un po' più scherzose sia anna che nina si è visto nella cutscene finale dove scherzavano per una scarpa che mancava dalla collezione di di anna ok ti becchi la rovesciata con i tacchi adesso che ha tutte e due le scarpe anna è più letale sono entrambe molto giovani poi tra l'altro per la conflittualità di cui abbiamo parlato diciamo che anna ha voluto cercare di ha cercato di screditare diciamo la sorella agli occhi del pubblico e non farla più sembrare una killer così diciamo infallibile e vai giù e vai giù E ti abbiamo perfettato. Ora tocca a Michelle. E ti ributtiamo a terra. E' arrivato di nuovo il momento dello scontro con la sorella Nina. Come detto nello scorso video, Anna ha una fortissima rivalità con la sorella Nina e un rapporto proprio di amore e odio generati anche dalla morte del padre. E anche questo evento ha caratterizzato lo stile di combattimento di Anna che al contrario di Nina si avvicina di più allo stile della madre rispetto alle arti marziali omicide del padre che poi è morto. Ok abbiamo fatto la mossa del cobra. Ora tocca a Yachi, l'ideatore del primo torneo Tekken. Ottimo, l'abbiamo sconfitto. E ci godiamo l'altra taunt di Anna verso Yachi. Benissimo ragazzi, abbiamo concluso anche questa modalità arcade con Anna. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!